entra in farmacia perché è stato male tutta notte che ha mal di pancia ma non è vero ma stai facendo no ragazzi io al mare perché ti stavi sentendo ma no allora ve lo giuro ragazza ve lo giuro entra in farmacia e pensando che io non capissi dice ah mi novia tiene diarrea io scioccata ho iniziato a pensare dico ma mi novia sono io e gli ho detto ma sul serio stai facendo una roba del genere e la ragazza continuava a parlare del mio mal di pancia inventato da lui con lui perché pensava che io non capissi ma stavo capendo tutto mi sono vergognata da morire in tutto ciò perché lui ha mal di pancia e si vergogna è come quando vuoi mangiare i dolci che dici la mia fidanzata vuole la crozzata quella voi ciao 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 ciao